Emergenza Carignano di Fano, un distesso franoso dovuto al maltempo dei giorni scorsi, ha letteralmente spaccato il manto stradale in zona Villa Cartella. Coinvolti diversi tratti di strada comunale chiusi da sabato scorso per permettere i lavori di ripristino da parte dei tecnici del comune e di Aset S.p.A. Le tubazioni dell'acquedotto in Ghisa realizzati dalla società partecipata nel 2009 si sono rovinati, così come la rete del gas che alimenta Fenile e Carignano. Nella tubazione idrica sono stati eseguiti dei bypass e quindi sono stati posizionati dei tubi provvisori sulle scarpate fuoriterra. La priorità dei tecnici è stata infatti quella di mettere in sicurezza i sottoservizi e di non isolare la frazione utilizzando anche delle autobotti. La situazione che più preoccupa ora è il fatto che le due frane, di cui una più pericolosa in zona Bevano, poco prima del cimitero, è in continuo movimento. Per questo, oltre a ragionare sul da farsi, l'Aset e l'amministrazione comunale, con l'ausilio di un geologo, stanno pensando di chiudere la strada, anche per qualche giorno successivo ai lavori, al fine di garantire l'incolumità delle persone.